Il custode del Sacro Convento di Assisi fra Marco Moroni e il direttore della rivista San Francesco Patrono d'Italia fra Riccardo Giacon hanno partecipato all'inaugurazione della mostra San Francis of Assisi riservata ai donors e ai prestatori di opere d'arte che si è tenuta a Londra. L'esposizione, che sarà aperta al pubblico a partire dal 6 maggio presso la National Gallery, è interamente dedicata ad opere ispirate a San Francesco realizzate nel corso di sette secoli e sarà visitabile fino al 30 luglio. Contiene numerosi pezzi appartenenti a collezioni private e pubbliche europee e americane, di cui tre provenienti dalla collezione del Museo del Tesoro e della Biblioteca della Basilica di San Francesco in Assisi. La raccolta della collezione del Museo del Tesoro include opere che appartengono alla Basilica dal 1230, attualmente custodisce circa 100 opere di diversa natura, alcune delle quali donate da figure illustri della storia francescana. I pezzi prestati dal Museo del Tesoro alla Basilica di San Francesco in Assisi e della Biblioteca del Sacro Convento alla National Gallery in occasione della mostra sono San Francesco tra quattro dei suoi Miracoli Post Mortem, del 1253 circa, Tempera su Tavola, di Giunta Pisano. La seconda opera è il corno da richiamo con bacchette del secolo XIII in avorio medievale islamico e argento e infine il codice miscellaneo con inventario delle reliquie di Giovanni di Iolo del fondo antico della Biblioteca del Sacro Convento.